Campobasso Giulianova si giocherà ufficialmente sabato prossimo a Selvapiana. Anticipo disposto in virtù del recupero divenuto ufficiale nelle ultime ore di Cinzia Albalonga. Campobasso una trasferta non giocata come deciso da calendario lo scorso primo novembre, poi rinviata per ben tre volte consecutive. La quarta mercoledì prossimo a Genzano dovrebbe essere la volta giusta. Il Campobasso, staff tecnico e giocatori, non vede l'ora di tornare in campo per dimostrare e confermare il proprio valore, ma soprattutto per provare a riappropriarsi il prima possibile del primato. Cudini avrà a disposizione Vitali, rientrante dalla squalifica. Sabato sarà presente alla gara contro il Giulianova anche la nuova parte statunitense. Saranno presenti il nuovo socio Rizzetta unitamente al mediatore Nicola Cirrincione. Sarà una maniera anche per la stampa e per l'ambiente in generale per conoscere i nuovi soci. Mentre Rizzetta annuncia di aver opzionato fino al 49% della società rosso-blu, la nuova parte statunitense per il tramite di Italian Football TV annuncia la realizzazione di un documentario destinato a raccontare la storia del Campobasso Calcio. Un'idea finalizzata a mostrare a tutti i tifosi rosso-blu cosa si muove fuori dal terreno di gioco. A primavera quindi sarà lanciata la serie documentario dal titolo Underdogs che farà vivere il dietro le quinte della squadra rosso-blu. Alle porte c'è un Giulianova abbastanza derelitto e che proprio ieri ha fatto registrare l'esonero del tecnico Federico Delgrosso che era nell'aria da qualche settimana. In panchina Selvapiana ci sarà il barese Leonardo Bitetto. A quest'ultimo la società Giuliesse chiederà una salvezza che appare complicata ma non impossibile. Mercoledì 27 gennaio la Lega ha deciso una serie corposa di gare da recuperare. In tutta la quarta serie se ne giocheranno 30, poco meno del 30% dei recuperi complessivi da disputare. Nel girone F, oltre alla gara del rosso-blu a Genzano, anche Olimpia, Nionese, Recanatese, San Nicolò, Notaresco, Vastese, Montegiorgio, Giulianova e Vasto Girardi, Castelfidardo. In pratica sarà un turno in cui giocheranno tutte le molisane del girone. Sarà una giornata che gioverà alla lunga lista di gare da giocare, sperando che un'applicazione più rigorosa del protocollo riscritto da un mese possa garantire una maggiore continuità al torneo. Anche l'Agnone freme per tornare a fare punti. Cancellato subito lo stop di Rieti, in parte spiegabile anche con la lunga astinenza da gare ufficiali, la squadra è concentrata sulla Cinzia Albalonga. Anche in questo caso la società Granata ha chiesto di giocare al sabato, proprio in vista dell'infrasettimanale di mercoledì contro la Recanatese. Sabato dunque agnonese. Cinzia Albalonga. L'Olimpia, proprio insieme ai marchigiani, necessita di giocare il più possibile per assottigliare un monte recuperi giunto a quota 5. Facile immaginare come proprio l'Agnone e la Recanatese nel mese di febbraio possano andare incontro a gare fissate mercoledì e domenica in maniera costante. Il Vasto Girardi ha ripreso ad allenarsi in quel di Fornelli. Per ora la trasferta di Vasto rimane fissata domenica 24. Anche se i ragazzi di Prosperi pure rientrano fra quelle che dovranno recuperare mercoledì 27. Ma è la Vastese a non preferire l'anticipo, visto l'impegno odierno degli abruzzesi a Castelfidardo. Prosperi sta studiando la Vastese insieme ai suoi collaboratori. Una squadra presa da qualche settimana da Fulvio D'Adderio e che sta evidenziando non pochi problemi di organico. Sarà una partita che varrà tanto per gli Aragonesi, ma il Vasto Girardi andrà nella vicina Vasto senza dubbio per tentare di vincere, com'è nel DNA degli Altomolisani. Intanto è arrivata questa mattina l'ufficialità del rinvio di San Nicolò Notaresco Tolentino in programma domenica prossima. Il Tolentino prosegue il suo isolamento precauzionale. Subirà la stessa sorte la sfida fra l'FC Matese e il porto Sant'Elpidio. I casertani pure sono in isolamento precauzionale.